Una delusione per quest'ultima scelta perché sinceramente sembra che un partito voglia occupare tutti i posti di quel gruppo e quel gruppo è importantissimo per il Porto di Genova ma per la portualità italiana. Quando si serve lo Stato o gli enti pubblici serve veramente un periodo di non confusione rispetto al ruolo che si è ricoperto indipendentemente da come si è ricoperto perché si possono fare interessi in tanti modi di vari gruppi facendo delle cose o non facendo delle cose. Il Porto di Genova è in concorrenza con il Porto di La Spezza, con il Porto di Livorno, con il Porto di Carrera, con altri porti quindi secondo me le figure che ricoprono certi incarichi dovrebbero testimoniare la propria autonomia non solo durante il mandato ma anche per un periodo successivo al mandato.